Benvenuti guardiani nel mio nuovo video su Destiny, questa volta sono qui per mostrarvi diciamo un glitch che ci farà entrare dentro la mappa nella zona dove possiamo andare per far visita ad Omnigul, ovvero il complesso terrestre. Cercate di avvicinarvi e fare la strada che vi sto facendo vedere io e una volta arrivati in questo punto dovrete fare quella solita tecnica che ho già utilizzato in altri video glitch, ovvero di entrare nel muro. Arrivati in questo punto dovete fare più o meno come il binario 9.75 su Harry Potter, dovete praticamente schiantarvi contro il muro, saltare da questa parte e una volta entrata dentro la texture della mappa dovrete fare la stessa strada che vi farò vedere io. Entreremo da questo lato, praticamente il lato quello ghiacciato nel lato destro del muro, dovete fare appunto questi saltelli per arrivare in questa parte un po' più in alto, ci saranno dei cassoni diciamo e lasciate perdere se vedete la mappa tutta sfrantornata, tutta distrutta. E arrivati a questo punto troveremo questa benedettissima freccia rossa. È una freccia rossa che indica appunto quella zona della mappa che sembra essere una sorta di porta con tre laser per poi non poterci andare. Non capisco, non sappiamo molto bene se è una roba che uscirà fuori magari, visto che hanno detto che hanno sistemato alcuni assalti, magari ritornerà l'assalto di Omnicool un po' più modernizzato oppure no. Fatto sta che queste sono le due frecce rosse che troviamo in questa porta, vedete sto saltellando qua e di là per farvele vedere. Possiamo diciamo girarci intorno quanto vogliamo per pensare di cosa potrebbe essere questa roba, oppure magari non sarà niente, hanno solamente aggiunto queste due frecce così tanto per. Io ho trovato giusto di farvi vedere questo pezzo della mappa che magari, visto che nei video scorsi, nei discorsi DLC, hanno poi dopo portata delle zone delle nuove mappe che troveremo nelle prossime espansioni, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un pollicino alzato e un parere qua sotto, vi invito a iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Qua è morti, bella per tutti, buona caccia guardiani! Ciao!